musica oh per le grandi Allora? Hey man, dove sei? Ma senti, io lo sto cercando Penso sia in zona, ora ancora non l'ho trovato Stai cercando cosa? Eh, Michael Collins Ma dove, scusami? Ma senti, io non lo conoscevo, ma avevano detto che è un tizio inglese Ma non sei in Piazza Signoria a Firenze? Aspetta, e in che senso Piazza Signoria a Firenze? Fall and Sleep, 15 febbraio, Firenze e Michael Collins Pub Ah, Michael Collins Pub, eh? Eh Eh, e senti, io... Io arrivo, eh Io arrivo, ora dammi un 23-24 ore Arrivo, arrivo, eh Ma che poi Michael Collins è morto nel 22 Provinci come? Provinci come Provinci come Se E' morto nel 22 Surtuto è card spirito R iso Bello niente Hal dire Lua Ho Ho Grazie a tutti. Grazie a tutti.